daily cogito svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi ogni mattina dal lunedì al venerdì con rick du ferre buongiorno a tutti e bentornati come ogni mattina qui su daily cogito io sono sempre rick du ferre e finalmente sto registrando da casa davanti al mio microfono seduto alla scrivania non come gli scorsi giorni dopo la lunga trasferta delle ultime due settimane in cui varie volte ho registrato in condizioni diciamo così di fortuna ma daily cogito è riuscito a resistere a quelle condizioni di fortuna e oggi torniamo alla normalità anzi no perché oggi parliamo di un evento tutt'altro che normale oggi parliamo di fascismo ma in particolare parliamo del fascistometro questa cosa strana che è una pagina internet sull'espresso a quanto pare voluta da michela murgia autrice opinionista analista della società della politica eccetera eccetera ovviamente questo è un discorso correlato un discorso di puro stampo promozionale correlato al lancio del suo nuovo libro istruzioni per diventare fascisti cosa che devo dirti michela dopo questo fascistometro io ho perso la voglia di leggere perché perché il fascistometro è come dire nella migliore delle ipotesi una goliardata di marketing in una meno migliore ipotesi un monumento all'analfabetismo comunicativo nella peggiore delle ipotesi però tutt'altro che da scartare è un atto di fascismo inconsapevole in italia i fascisti inconsapevoli sono tanti e fanno tante cose inconsapevolmente fasciste ora quello che vorrei fare con voi è leggere in maniera abbastanza veloce e spedita le varie le 60 frasi del fascistometro il link del fascistometro comunque lo trovate qui sotto in descrizione nel caso vogliate andare a fare questo importantissimo test prima di ascoltare il prosieguo del podcast però andremo ad analizzarle e ce ne sono tante che non sono solo controverse ma sono veramente assurde e poi vi dico anche il mio risultato allora il fascistometro mi dice spunta le frasi che ti sembrano di buon senso lasciamo stare su cosa può significare buon senso non veramente non voglio complicare troppo le cose uno il suffragio universale è sopravvalutato ok questa non l'ho segnata e possiamo andare avanti tranquillamente due non abbiamo il dovere morale di accoglierli tutti ora vorrei dire a michela murgia è evidente che questo dovere morale ha un presupposto fondamentale alle spalle cioè l'esistenza di confini di stati nazione è evidente che nel momento in cui tu esisti in un in un diciamo così in un contesto di stati nazione di confini di strade da oltrepassare di fiumi da guadare c'è un discorso sull'accoglienza il discorso sull'accoglienza è quello sbagliato come dissi nel podcast dedicato all'anarchia proprio sull'immigrazione qualche mese fa recuperatevelo è il terzo della trilogia su philosopher so good il problema è proprio il discorso di accoglienza cioè in un mondo di buon senso non si dovrebbe neanche accogliere perché la circolazione di qualsiasi persona a mio parere dovrebbe essere completamente libero però in un sistema di stati nazione in cui i confini sono protetti da vari elementi è evidente che esiste purtroppo una retorica dell'accoglienza quindi in questo contesto non può esistere un dovere morale dell'accoglienza quel dovere morale è insensato lo ripeto in un contesto in cui non ci sia confine che però purtroppo purtroppo oggi c'è quindi già falliamo un po in in questo tipo di logica però procediamo tre il cittadino medio è come un bambino di 12 anni non troppo intelligente forse quelli che stanno esultando per aver avuto zero o cento a questo test 4 basta partiti e partitini soprassediamo 5 come può fare il ministro uno che non ha manco il diploma io questo non lo capisco sinceramente non capisco perché io non l'ho segnata tutte queste non le ho segnate finora non capisco bene cosa significhi e quale possa essere il risultato non ho il tempo di sperimentare tutte le possibili combinazioni però è evidente che da un lato uno che non ha un diploma può tranquillamente essere un ministro senza nessun tipo di problema perché ci sono persone non diplomate che hanno fatto cose più importanti anche dei baccalorea più in vista del mondo e così come si c'è un diplomato non è il diploma che fa la tua intelligenza non è il diploma che ti dà le competenze di gestione ci sono non diplomati che hanno avuto grandi successi aziendali in passato e che ancora oggi possono averne quindi boh vabbè lasciamo perdere 6 sono laureato all'università della vita ecco stesso discorso di prima non è che se uno dice che si è fatto sulla strada allora è peggiore di un laureato questa è una grandissima stronzata perché lo ripeto per esempio ne ho parlato proprio qualche giorno fa quando ho parlato del rapporto fra teoria e pratica alcuni fra i più grandi broker di compravendita e di cambia valute al mondo non hanno nessuna nozione teorica di economia e non hanno fatto economia e commercio all'università non hanno fatto l'università quindi certamente il rincoglionito che vuole avere ragione perché lui si è fatto le ossa sull'università della vita vabbè ovviamente un discorso però attenzione non è che un laureato sia necessariamente più altolocato intellettualmente di un non laureato 7 non ho segnato neanche questa perché è talmente ambigua vabbè poi 7 in italia chiunque può dire no e bloccare un'opera attenzione strategica ora porcaccia la miseria cara michela morgia strategica cosa vuol dire strategica chi ha deciso la strategia dove stanno i criteri di quella strategia perché è evidente che qui c'è proprio un una fallacia ideologica straordinaria che è collegata a quella di prima cioè del fatto che i laureati i ministri siano quelli che sanno meglio di chiunque altro cosa fare ma cosa vuol dire opera strategica ci sono opere pubbliche che hanno devastato intere economie mi viene in mente il il blocco per le acque alte come si chiama il mose di di venezia opera pubblica voluta da ingegneri burocrati esperti architetti un disastro un macello milioni e milioni e milioni di euro miei tuoi di tanti altri buttati in una cosa assurda ed era un'opera strategica quindi se io segno questa casella forse sono un po più fascista mi sembra che qui siamo un po rincoglionati in realtà andiamo avanti non l'ho segnata comunque per 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 paura di vedere innalzato il mio livello di fascismo poi otto lo stupro è più inaccettabile se commesso da chi chiede accoglienza e ritorniamo al discorso dell'accoglienza per me non dovrebbe esserci un discorso sull'accoglienza e chiunque commetta uno stupro di qualunque nazionalità di qualunque provenienza qualunque è uno degli atti più gravi che si possano immaginare nove i bambini facciano i bambini le bambine facciano le bambine e vabbè anche qua soprassediamo dieci prima dovrebbero venire gli italiani e soprassediamo undici con la cultura non si mangia ma questa è una cosa assolutamente vera mia cara michela murgese io segno questo non è che sono più fascista come tu in mi ha detto perché questa l'ho segnata perché perché non è con la cultura che si mangia è con l'iniziativa che ha alle spalle una cultura è con la sperimentazione è con l'atto è con la scommessa è con l'impresa è con il rischio che parte anche forse dalla cultura ma non sempre per il discorso che facevo prima sui non laureati che fanno milioni di euro e di dollari facendo i cambiavalute non è la cultura che mi fa mangiare la cultura è una delle spinte che mi può portare a mangiare ma se manco di iniziativa se manco di coraggio se manco di voglia di scommettere su me stesso e anche sulla mia cultura non mangio la mia laurea non mi fa mangiare non mi farebbe mangiare se non avessi preso i rischi che ho preso durante la mia carriera se non avessi fatto le scommesse qui siamo al puro analfabetismo cioè con la cultura non si mangia io ho cliccato sì perché è vero e quindi sono più fascista l'italia è un paese ingovernabile ma certamente fin tanto che la classe intellettuale sarà guidata da gente che pubblica sta roba siamo all'ingovernabilità più spaventosa quindi sì ho cliccato assolutamente sì quindi sono un po più fascista 13 una donna per quanto in vista deve sempre dare luce al suo uomo e vabbè qui chi ci ha messo la spunta penso sia un cretino 14 ci sarà una ragione se la cultura occidentale è quella che ha plasmato il mondo ma certo che c'è una ragione cara michela murgia e dire che c'è una ragione significa che analizzando i dati storici analizzando le motivazioni le contingenze le spinte la cultura occidentale ha plasmato il mondo così come lo conosciamo oggi il che non significa dire che la cultura occidentale è in assoluto la migliore significa tanto per avere due nozioni di memetica che le idee che che compongono il pool culturale occidentale hanno avuto il sopravvento su altre idee che non sono sopravvissute significa che la tradizione dei samurai giapponesi non ha resistito di fronte all'avanzata delle idee che da un punto di vista adattivo le idee occidentali che da un punto di vista adattivo hanno avuto la meglio persino in giappone in poco tempo il che non significa che l'automazione la tecnologizzazione e la finanziarizzazione sia in assoluto qualcosa di migliore significa però che sono idee che per delle ragioni ben precise di cui noi tra l'altro non conosciamo tutte le concause ha avuto la meglio sul resto e quindi io ho cliccato sì e quindi per michela morgia io sono un po più fascista andiamo avanti come avete capito sarà un po più lungo questo dei licogito ma insomma ce ne faremo una ragione forse anche questo mi fa essere un po più fascista oggi 15 davvero ci serve un altro tavolo di concertazione e io qua non ho capito se si parla di musica di politica quindi ho proprio lasciato perdere sono andato avanti 16 le indennità dei parlamentari sono un insopportabile privilegio e io ho cliccato sì è vero come ogni politico come ogni burocrate come ogni persona che per qualsivoglia motivo debba essere considerato al di sopra più protetto dei cittadini comuni più protetto inteso come non protezione per quello che lui fa ma per quello che l'istituzione gli dà certo che è un insopportabile privilegio certo che non ha alcun senso se non alla luce di questa religione dello stato nazione che un parlamentare goda di privilegi maggior rispetto a un cittadino comune privilegi che poi tra l'altro alcuni dei quali rimangono vita natural durante ma vabbè questo altro però però io per michela murgia per questo fatto sono più fascista ovviamente me la sto cavando molto male ragazzi 17 non ha ucciso nessuno al massimo mandava la gente in vacanza al confino e vabbè queste sono quelle che ci infila un po per fare all'occhiolino ai ragazzi del centro sociale un po per sentirsi più più per sentirsi superiore rispetto a chi avrà comunque cliccato su questa possibilità tra l'altro io non penso che nessun vero fascista abbia guardato la pagina dell'espresso in cui c'è ma vabbè questo è un altro discorso 18 facile parlare quando hai il culo al caldo e lattico in centro è sì è così cioè da un punto di vista logico è vero è vero che è più facile parlare nel senso parlare è più facile parlare facendoti ascoltare avendo un'influenza quando hai uno stato più comodo è evidente che se io dormo all'addiaccio sotto un ponte sotto la pioggia e posso anche parlare quanto mi pare ma non mi ascolterà nessuno mentre io per esempio che ho il culo al caldo e lattico in centro di una cittadina perché io vivo in un attico fondamentalmente nel centro di una cittadina però piccola di 40 mila abitanti e non a nuova york certo che mi è più facile parlare rispetto a uno magari che pascola le pecore dalle 5 del mattino fino alle 8 della sera e questo però io quindi da un punto di vista logico ho cliccato sì questa è giusta e niente per michela murgia sono più fascista 19 e comunque esiste una famiglia naturale e vabbè soprassediamo 20 non ricordo tutta questa solidarietà per i nostri terremotati e andiamo avanti 21 la lobby gay adesso sta esagerando con le pretese quindi un trittico proprio di di frasi con cui non può non puoi spuntarle queste cose e quindi lei ce le mette proprio per fare l'occhiolino a un gran numero di persone ottima strategia di marketing cara michela ottima 22 bisogna capire che la gente è stanca io l'ho segnato ma sono più fascista per questo ma certo che bisogna capire che la gente è stanca cioè bisogna capire bisogna capire i motivi e la natura di quella stanchezza perché se io cosa cosa faccio la gente è stanca quindi la mando al confino cosa faccio con la gente stanca certamente è odioso il fatto che ci siano persone che senza motivi si dicano stanchi ma poi voglio dire bisogna farci i conti con questa cosa quindi io ho detto di sì per lei invece questa cosa non va bene 23 abbiamo le nostre radici cristiane da difendere e lasciamo perdere 24 a questi manca la cultura del lavoro e io ho segnato di sì cioè a questi a questi inteso tantissima gente in italia in italia manca la cultura del lavoro in italia manca completamente la dignità del lavoro dell'impresa del rischio professionale manca completamente questa cosa cioè non non ce n'è da nessuna parte anzi se sei uno di quelli che si prende un rischio che porta avanti una scommessa professionale e perché perché magari c'ha voglia di di farsi una vita un po più decente rispetto a quella che altrimenti i sussidi di disoccupazione ti darebbero allora tu sei da combattere sei un capitalista sporco imprenditore maledetto e in questo paese manca la cultura del lavoro come manca in questo paese manca certamente anche a tantissime persone che arrivano dal mediterraneo perché la mancanza di cultura del lavoro è una cosa molto molto onnicomprensiva oggigiorno e così come tanti italiani non ce l'hanno anche tanti stranieri non ce l'hanno è normalissimo e perché io cliccando su questo devo sentirmi più fascista ma 25 ci rubano il lavoro ma visto visto che manca la cultura del lavoro non vedo proprio quale lavoro potrebbero toglierci 26 i sindacalisti sono dei servi venduti ora io questa cosa non l'ho mai detta non ho mai detto sono dei servi venduti è indubitabile che i sindacalisti dopo il loro prezioso lavoro svoltosi fra gli anni 60 agli anni 80 oggigiorno sono diventati delle delle lobby ideologiche molto spesso prive di qualsiasi vero contenuto che conservano proteggono i lavoratori già esistenti di fatto molto spesso ostacolando innovazioni e iniziative che permetterebbero una maggior occupazione dei giovani quindi un ricambio il cosiddetto turnover sono molto spesso i sindacati lobby ed enti che proteggono diritti già acquisiti cosa che era l'esatto opposto rispetto a cosa che è l'esatto opposto rispetto a quello che i sindacati erano 30 anni fa in cui dovevano acquisire nuovi diritti in cui dovevano combattere combattere l'esistente non conservarlo quindi ho segnato di sì anche se non direi che sono servi venduti ma la michela murgia non mi mette possibilità non mi mette sfumature di grigio mi dice che o i sindacalisti vanno bene così come sono oppure sono dei servi venduti beh io nel dubbio dico che sono dei servi venduti 27 il femminismo ha insegnato alle donne a odiare gli uomini ed è ovviamente no ma anche qui non ci sono sfumature non ci sono le derive che così come qualsiasi altro movimento così come il movimento degli incel della red pill ha le sue derive assurde assolutistiche anche il femminismo ha avuto le sue derive assurde e assolutistiche ma qui siamo a un test a crocette ragazzi quindi andiamo avanti vi prego 28 la prima ma siamo a metà vabbè cercherò di velocizzare la prima cosa è diminuire il numero dei parlamentari e lasciamo perdere 29 questa non è bontà e buonismo lasciamo perdere 30 un paese senza confini non è un paese e io vi faccio ritornare il discorso che facevo con la prima quella sull'accoglienza certo che un paese senza confini non è un paese maledizione ma che discorsi sono ma perché io cliccando questa che è logicamente corretta perché un paese si definisce anche sulla base dei propri confini da difendere che quindi corrispondo all'esigenza di un esercito nazionale perché io cliccando questa devo essere più fascista ma di cosa stiamo parlando andiamo avanti 31 rottamiamoli tutti 32 sarebbe meglio aiutarli a casa loro vabbè sarebbe meglio non dover aiutare nessuno ovviamente ma solito discorso sull'accoglienza paesi confini 33 un paese civile non può dare diritto di voto a gente che fino a ieri stava sugli alberi vabbè 34 non sono profughi sono migranti economici e anche qua sopra sediamo 35 se lo stato non mi protegge devo proteggermi da solo io questa l'ho segnata per un motivo un po diverso non è che io sia convinto che se lo stato non mi protegge devo proteggermi da solo io sono convinto che io debba avere la possibilità di proteggermi da solo e anche qui vi rimando alla mia trilogia sull'anarchia di filosofar so good ma il punto davvero fondamentale che la murgia non discuterebbe mai se no la vendita dei suoi libri crollerebbero in seguito alla non presenza alla rai ovviamente perché non verrebbe più invitata alla rai se dicesse una cosa del genere è devo potermi proteggere dallo stato è dallo stato che devo potermi proteggere ma ripeto qui non voglio aprire il dibattito perché se ascoltate proprio l'episodio di filosofar so good dedicato all'anarchia mi sembra sia il secondo in cui parlo proprio delle armi dell'esercito del possesso di armi recuperatevelo quindi io l'ho spuntata sono più fascista ovviamente 36 le quote rosa sono offensive per le donne certamente che lo sono perché possiamo parlare che le quote rosa sono il minormale va bene possiamo discutere sul fatto che le quote rosa sono una necessità storica va bene ma è indubitabile che obbligare aziende politica enti a ad assumere donne è avvilente perché significa che alle spalle non c'è ancora una cultura sufficiente a ad accettare il fatto normalissimo che ci siano delle donne che guadagnano lavorano più con più successo degli uomini quindi sì le quote rosa sono offensive per le donne e fin tanto che ci saranno le quote rosa fidatevi non avremo mai una vera parificazione dei sessi avremo la parificazione dei sessi quando non ci sarà più bisogno di mettere un obbligo di legge per l'assunzione o la promozione o la valorizzazione delle donne però anche qui io l'ho spuntata e sono più fascista 37 è razzismo al contrario questo test sì 38 destra e sinistra ormai sono uguali vabbè anche gabber quindi sarebbe stato fascista 39 1 vale 1 mettiamo in discussione anche la matematica e 40 vi ricordo che questa gente vota si vota anche michela murgia 41 i giornalisti sono tutti servi del potere ma io l'ho spuntata questa di nuovo le sfumature di grigio qua non vengono contemplate però sì i giornalisti sono affiliati a un certo tipo di visione del mondo a un certo tipo di finanziamento pubblico a un certo tipo di potere economico è una logica sociale ben precisa quindi sono servi poi di nuovo vorrei poter scrivere delle cose qui del tipo ma non è tutto non non tutti sono così ma ci sono dei casi particolari c'è ancora un'informazione indipendente molto interessante eccetera eccetera ma michela murgia non vuole sentire le sfumature vuole che io vada alla 42 noi siamo violenti per necessità loro per cultura in realtà siamo tutti violenti per cultura siamo tutti violenti sulla base delle cose che ci hanno insegnato le cose con cui non abbiamo fatto pace le cose che abbiamo introiettato e di cui siamo vittime ma anche qui michela non mi permette di fare sfumature ma visto che questa qua probabilmente mi darebbe un coefficiente di fascismo del 70 per cento io l'ho lasciata stare per convenienza perché non voglio sfigurare così tanto 43 anche i partigiani comunque non erano stinghi di santo e grazie al cazzo cioè ma perché io non dovrei ammettere che i partigiani per quanto fosse nobile per quanto necessaria per tutto quello che hanno fatto di importante si sono anche effettivamente macchiati di brutali crimini ma perché io dovrei non guardare alla storia ma invece vengo tacciato di fascismo quindi prenderò sicuramente una percentuale in più perché ho spuntato questa certo che non erano stinghi di santo uno fra i partigiani c'erano anche criminali anche galeotti e questo lo sappiamo per i resoconti c'era anche gente scappata di galera gente che non era affiliata all'ideologia antifascista ma è entrata nei partigiani perché 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 conveniva quindi che cosa c'è di male nel dire storicamente che i partigiani a volte hanno commesso dei crimini orribili quindi qua veramente siamo siamo di fronte all'imbecillità fatta 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 sondaggio non ha nessun senso questa cosa 44 andiamo avanti se no mi incazzo penso ai nostri ragazzi delle forze armate va bene non pensiamoci ma le forze armate mi stanno anche un po sulle palle quindi lasciamo perdere 45 è il radical chic che dà lezioni col rolex al polso e sta domanda cosa vuol dire certo ci sono figli di papà privi di qualsiasi esperienza nella vita anche in parlamento anche nei giornali anche in televisione con rolex al polso che danno lezioni di vita e che della vita non sanno nulla e che sono solo raccomandati quindi certo che l'ho spuntata questa ma così come ci sono ragazzi con rolex al polso che dicono queste robe da una parte ci sono anche dall'altra quindi perché michela mi dai del fascista se io spunto questa mi sento un po male 46 a che minuto siamo siamo a 24 minuti vabbè dai insomma mi perdonerete per questa lunghezza e i nostri figli laureati costretti a emigrare è e sì ed è così ed è veramente così ma più che i laureati quelli che hanno delle vere idee quelli che hanno iniziativa quelli quelli che hanno qualcosa da produrre da fare in qualsiasi ambito e sono costretti ad andarsene certo che ci penso e perché questo dovrebbe essere un qualcosa che dà una svolta fascista ma siamo davvero così rincoglionite da pensare che chi dice questa frase sia più fascista di un altro davvero la pensiamo così siamo perduti allora siamo perduti invece dobbiamo proprio pensarci a questa cosa vabbè non si fa nulla per il problema delle culle vuote vabbè io sicuramente figli non ne avrò quindi questa non l'ho spuntata e siamo a posto 48 nei loro paesi questo a noi non lo lasciano fare a tornando a quella prima quando poi fra dieci anni mi troverò con quattro pargoli non venite a rivangare questo podcast vi prego potrebbe farmi troppo male dicevo nei loro paesi questo a noi non lo lasciano fare ed è una verità assoluta e questo si ricollega a un politicamente corretto rivoltante che ci impedisce di criticare per esempio l'islam la cultura islamica che non ha in nessun luogo neanche negli emigrati finora ha fatto un processo di secolarizzazione e appena tu fai una critica all'islam al burka alle loro tradizioni usanze al fatto che generalmente la donna è considerata in maniera peggiore rispetto che nella nostra cultura inferiore all'uomo allora viene tacciato di islamofobia e quando dici che in realtà il sistema di pensiero islamico perlomeno quello praticante non è esattamente così liscio e così facile da introiettare nella nostra cultura allora vieni subito tacciato di islamofobia ma di questo lo parlerò nel video che pubblicherò venerdì dedicato proprio al politicamente corretto abbiate pazienza io l'ho spuntata questa perché è vero che molte cose che noi lasciamo fare qua loro non ce le lasciano fare non c'è niente di fascista nel dire questo 49 c'erano gli anarco insurrezionalisti dei centri sociali vabbè io qui proprio mi son fatto una risata quando l'ho letta e la soprassiedo 50 l'ideologia gender sta rovinando le famiglie e lasciamo perdere 51 ma il parlamento a che serve cioè se io mi faccio questa domanda non nel senso che non so cosa serve il parlamento ma che cacchio sta facendo il parlamento allora sono fascista me lo segno 52 è finita la pacchia va bene 53 comunque è vero che ha fatto anche cose buone andiamo avanti 54 non rispettano le nostre tradizioni non me ne frega nulla le tradizioni quindi non l'ho spuntata 55 quando ti imporranno il burka non lamentarti eccolo qua eccolo qua l'accusa di islamofobia il fatto che criticando un aspetto della cultura islamica allora sia islamofobi sia razzisti quando nella realtà di fatti io quando vedo una donna con il burka io sento perché io sono io sono femminista io sono femminista ma non sono islamofobo ma sono femminista e credo fermamente che una persona culturalmente portata a indossare qualcosa che ti copre dalla testa ai piedi non sia esattamente libera non venga esattamente valorizzata però non voglio entrare in questo discorso adesso quello che voglio dire è che non si può sempre tacciare una critica a una cultura come al razzismo di fronte a quella cultura non è così poi dall'altra parte ci sarebbe anche da dire che criticare una cultura cioè i precetti di una religione non è razzismo questa sovrapposizione è folle e baccata vabbè andiamo verso la fine 56 certo se va in giro con giata così un po te la cerchi e vabbè parla da sola 57 basta con tutti con quelli che dicono di no a tutto e qua salta fuori jim carrey con yes man 58 bisognerebbe sapere quanti sono c'è in sirli sì quelli che quelli che che hanno fatto questo che hanno che hanno permesso la pubblicazione di questo sondaggio bisognerebbe effettivamente censirli 59 senza vicolo di mandato i parlamentari cambiano casacca ogni volta che vogliono vabbè 60 no sono 65 in tutto in realtà 60 loro sono i primi che rubano 61 i nostri nonni emigravano con già un lavoro 62 questa giustizia a orologeria 63 ci vorrebbe il presidenzialismo 64 li raderei al suolo e poi spianerei con una rusma 65 se ti piacciono tanto portateli a casa tua molto interessante questa in questa accelerazione finale di ins di nonsense delle ultime 4 5 frasi che ovviamente si slega da tutto quello che c'era prima insomma io ho fatto questo punteggio 18 su 66 e allora leggiamo il risponso che la saggia michela murgia tra 16 e 25 punti quindi anche con un range abbastanza neofita o proto fascista sei consapevole di quanto il metodo fascista sia efficace ma lo consideri ancora un'opzione trattante perciò sei disposto a tollerare il pluralismo dei metodi o addirittura a difenderlo ma stai attento un sistema che incentiva l'espressione della massima pluralità di posizioni sfocia in una democrazia se però continui a pretendere che il metodo fascista sia considerato un'espressione dell'agire politico e convince un democratico al giorno a trattarti con tolleranza senza limiti riuscirai ad arrivare alla scomparsa della tolleranza come diceva popper o la ed ecco qui cadiamo nella puttanata del paradosso della tolleranza se estendiamo l'illimitata tolleranza anche a coloro che sono intolleranti se non siamo disposti a difendere una società tollerante contro gli attacchi degli intolleranti allora i tolleranti saranno distrutti e la tolleranza con essi però qui la citazione viene tagliata e non si vede la parte in cui popper parla degli atti di intolleranza e delle opinioni intolleranti cioè gli atti quando qualcosa sfocia in un atto in un'azione va fermata prima si rischia di cadere nel suo opposto vabbè però cosa puoi aspettarti certo servono persone non ancora abbastanza fasciste da affermare il fascismo solo come metodo ma non più così democratiche da organizzarsi per evitarlo persone come te punteggio 27,3 per cento oh grazie oggi mi sono beccato del fascista in questi 30 minuti di daily cogito e vabbè spero che non mi odierete per questa lunghezza cosa posso dire posso dire che mi sento atterrito posso dirmi che questo questo sondaggio è un sondaggio squadrista fascista io questo meccanismo l'ho descritto abbastanza approfonditamente nel mio elogio dell'idiozia cioè è la cerchia dei non idioti è quel tentativo di produrre una un senso di appartenenza radicale in coloro che già la pensano in un certo modo e questo è un atto fascista cara michela murgia purtroppo bisogna ammettere che spesso il marketing anche nella promozione di libri che vogliono combattere il fascismo diventa fascista e questo purtroppo è un sondaggio che fa uso di un metodo fascista cioè semplifica appiattisce toglie le zone di grigio toglie la possibilità di ragionare ti dà soltanto un'opzione per cose molto complesse quindi distrugge la complessità distrugge il ragionamento distrugge la scelta di coscienza distrugge la dichiarazione distrugge la razionalità distrugge tutto quanto quello che dovrebbe essere il mezzo che usiamo contro l'eventuale ricomparsa del fascismo che forse nel paese c'è ma forse serpeggia nei luoghi più inaspettati avrei tantissimi punti da da porre di fronte a michela murgia ma non lo farò non lo farò perché perché non voglio appiattire io ho cercato anche un po scherzando perché veramente ho riso tanto di fronte a questo fascismo a questo sondaggio riso veramente tanto perché lo devo prendere così bisogna prenderlo così sorridere quando ti rendi conto che gli intellettuali di qualsiasi strale si lanciano in queste in queste operazioni molto più che discutibili allora vuol dire che siamo già qualche passo più in là rispetto alla sopportabilità però queste sono le mie opinioni fasciste ovviamente voi ditemi cosa ne pensate con un commento parliamone discutiamone che percentuale avete avuto voi in questo sondaggio siete più o meno fascisti di me e io vi ringrazio per l'ascolto perdonatemi per la lunghezza ma secondo me meritava questo tipo di approfondimento forse non lo meritava invece forse era meglio che era meglio se avessi parlato di spinoza o di cose molto più belle molto meno fasciste di sondaggi come questi però ormai è fatta e prometto che domani vi proporrò un argomento molto più edificante di queste cosacce brutte che l'espresso ci offre buona giornata a tutti un abbraccio qualsiasi cosa farete fatelo mi raccomando con coscienza e senza semplificare troppo una realtà che di fronte alla semplificazione crolla a presto e ricordatevi come sempre che non è tutta noia ciò che pensa grazie a tutti